Da rossa ad arancione, il bollettino meteorologico pomeridiano della regione abbassa il livello d'allerta per criticità idrogeologica del bacino Alto Brenta Bacchiglione-Alpone, che interessa la zona del Vicentino. L'ondata di maltempo, che dovrebbe concludersi stasera con possibilità di vento e grandinate, ha tenuto col fiato sospeso in mattinata, in cui sono scesi 50 mm di pioggia, di cui 36 in una sola ora, che hanno causato piccoli allagamenti in via dello Stadio, via Leretenio e via Riello, dovuti principalmente ad ostruzioni superficiali delle caditoie subito ripulite. Altre zone interessate da piccoli allagamenti sono state il Mercato Nuovo, la Stanga, il sottopasso di Villaggio del Sole. Abbiamo avuto solo allagamenti puntuali in alcuni punti, ma relativi alla grande pioggia, la grande pioggia caduta in poco tempo, ma non abbiamo avuto situazioni di reale difficoltà per le persone o per le case. Resta aperto il centro operativo comunale per il monitoraggio della situazione, protezione civile comunale pronta, come per i temporali di stamattina con le proprie squadre ad intervenire insieme alla polizia locale. I quantitativi sono stati importanti questa mattina, ci sono state alcune criticità in alcune zone della città per ostruzioni delle caditoie, prontamente risolti da NCPS Valore Ambiente e Regolatari della Protezione Civile. Oggi pomeriggio rimane operativo ovviamente il centro operativo della polizia locale, lo 0444 54, 53, 11 per segnalazioni o eventualmente per segnalarci delle emergenze. Qualche intervento segnalato in provincia per liberare le strade da alcuni alberi caduti, così come nel pomeriggio si è registrato qualche allagamento delle carreggiate. Restano aperti in provincia 50 centri operativi comunali per monitorare la situazione. Non ci sono sostanziali rilievi da fare e grandi emergenze in questo momento che risultano ai nostri uffici. Attendiamo che questa perturbazione passi, speriamo non faccia grandi danni. Rimarchiamo comunque come l'allerta sia stata recepita in maniera puntuale dai comuni con circa una quarantina, 45 cocca aperti questa mattina e i centri comunali aperti per l'emergenza sono arrivati a 50 in queste ore, quindi un'emergenza che passa ma i comuni che sono pronti ad affrontarla.